Crisi ufficialmente archiviata, dimenticate con un colpo di spugna le sconfitte rimediate nel derby e nella trasferta di Cesena, in Casa Lazio si ricomincia a sognare con buona pace dei gufi. Parola di Giuseppe Biava, soddisfatto più che mai della prestazione della sua squadra contro il Napoli. Gufi ce n'erano tanti in queste settimane, tutti ci davano fortunati prima, poi in crisi questi tre giorni. Abbiamo dato una grande risposta contro il Napoli che nelle ultime giornate aveva fatto vedere grandi cose, siamo riusciti a vincere, penso meritatamente, e questa è una grande risposta. Il successo contro i partenopei è un segnale importante per il prosieguo del campionato. Il segnale è che ci siamo ancora, la Lazio ha voglia di lottare, di rimanere più in alto possibile, e il campionato è ancora lungo, però se continuiamo a vincere e a rimanere lì, non so, vediamo primavera come si è ammesso. Credo abbiamo fatto vedere che la squadra ha caratter, non è facile dopo due sconfitti giocare contro la Napoli in casa, abbiamo fatto molto bene e abbiamo trovato i tre punti. L'obiettivo dichiarato dopo 12 giornate di campionato rimane un posto tra le prime sei della classifica. L'obiettivo deve essere lottare per i primi sei, come abbiamo detto sempre, allora prendiamo partita dopo partita e alla fine facciamo il conto. Le critiche arrivate da più parti sulla casualità di un primato fortunoso non intaccano le convinzioni dell'ambiente bianco-celeste, ormai sicuro delle proprie potenzialità. Noi non sentiamo gli altri, è normale al calcio che c'è sempre qualcuno che deve parlare, noi guardiamo sul campo che facciamo meglio e proviamo a vincere le partite.